Piazza Ortale, Sant'Angelo a Fasanella, finale del Fasis Cup 2012. Con noi Ignazzo, capitano del Felitto. Come è sembrata questa partita per lei? Una partita molto sofferta, però alla fine ce l'abbiamo fatta. È stata una grande vittoria per la compagine di Felitto. Questo 2-1, insomma, alla fine Sacco era molto motivata, era molto, diciamo, pronta alla reazione. È stata una partita molto sofferta. Sì, sì, è una squadra molto organizzata che ci ha messo molte volte in difficoltà, però con la nostra esperienza alla fine siamo usciti di vittorio. Felitto, una squadra giovane, piena di giovani, insomma, star che possono, diciamo, sfondare, sbarcare il lunario. Come vede questa squadra in prospettiva? Ma, con i giovani che abbiamo la vedo molto positiva, anche se noi, come ad esempio io, siamo quasi alla fine, però un augurio ai nuovi giovani, sperando che possano fare meglio. Un'ultima domanda, parteciperete a un torneo Fadis Cup 2013, se ci sarà? Penso proprio di sì, anche perché siamo vittorosi. Ne approfitto per fare una dedica di questo torneo al domenico, ragazzo scombasso, in quest'estate, 24 anni, ex calciatore. Allora, con questa dedica lasciamo il servizio e buona misura.